Graziano era una persona solare, era una persona tranquilla, era impegnato in tantissime attività a 360 gradi e a tutte dava il cuore e la sua serenità ed è per questo che difficilmente lo vedevi arrabbiato. Certo era una persona che era legatissima a San Giovanni in generale, a San Giovanni sportiva e anche a San Giovanni non sportiva e quindi tutto quello che andava contro all'azzurro probabilmente Graziano non lo sopportava tanto ed è per questo che forse qualche volta si poteva anche arrabbiare, però era una persona veramente splendida. Quando eri con lui io non ho un ricordo di essere stato in compagnia di Graziano e non aver sorriso o proprio scambiato delle battute che ti riempivano proprio di felicità. Perde una comunità intera, un personaggio conosciuto e ben voluto da tutti. Perde molto San Giovanni a perdere persone come Graziano che lo facevano vivere. Il paese con queste persone qua vive e viveva ancora meglio rispetto a quando purtroppo in questo momento non ci sono più.